Vi parlano Moussime e Madame Gervin. Sarai a Madame Gervin? Oh, sarai a Moussime. Anche lui può fare un poco di respirazione balsamica? Già, e respirando un po' d'aria buona, in guardo la mia vera teoria. Ah, sì, proprio bellene. Ma ancora un poco di drangiato. Come casaria? Ma che guardi, non vedi che c'è ancora in giro troppa maceriazione? Maceriazione? Che non faccia dell'ognorri, là. Che guardi, case ancora ad arrangiare. Oh, che desolazione. E le scuole? E lui che non lo sa, che le nostre cose hanno bisogno di scuole ancora. Eh, lo sai, lo sai. Ma però vanta a dirlo, eh. Tante belle cose sono già fasse. Per esempio, i grandi ustra vai per l'energia elettrica. Oh, sì, è vero. E i filibus neo, vei, comod, vingumà. E poi tante altre belle realizzazioni. Oh, sì, sì, sì. Ma c'è ancora però certi tramboli. Che non ricordo la nostra gioventù, eh. Ah, non si mischia la stessa le nostre amate verdi, là. Ah, che mi dica piuttosto il suo intimo sentimento. Eh, cosa che ha detto? E lui va passare da anni brutti. Avanti avrei pazienza. Oh, della pazienza. Sì, chi che va piano va sano. Ma chi che deve andare a lavorare va così piano. Arriva in ritardo e paga la multa. Basta che parte da campo prima. Lui è proprio la rassegnazione personificata. Mi germoglio il dubbio che anche quando che il freddo non furia il pan ci manca. Ma, madame Gervin, cosa che ha detto? Citamenti poetici. Sa cosa che ci vorrebbe per la nostra Torino? Cosa? Un po' di disgaggiamento. Un po' di metempo sicosi. Oh, batteri un po' di soli. Cosa è lui che si introduce nella nostra dialogazione? Cosa, chi che ha lei? Mi? Mi sono Tureni. Mi ha lei Tureni? Sì, madame. Mi sono Tureni. Perché mi sono... Giantoia. Ah, quello che non bugia. Oh, stavolta i bugiurmo a tutti. I suoi avvenuti fino a sia posto a pardiglio ai nostri Tureni. Che qua un po' di buona volontà, Tureni diventrà torna bella, come una volta. Che bella ancora. Qua un po' di soli. Sol, sol, l'è una parola. Niente, per ora, non si muore, si farà un po' di noi, come sempre. Cos'era Tureni dal 40'o dopo Nuara? Eppure, se fosse l'Italia. Cos'era dopo il trasporto della capitale a Firenze? Ebbene, come San Buile diventrà la più bella città del mondo. E dopo? Ha una forza fase sì, le più moderne industrie? Che guarda? Prestito, città di Torino. Torinesi, sottoscrivete. Ha sottoscriverà un... Temporino che ha bisogno di una bella risuolatura. Fer Turing, da la scher di nos pensé. Raccomandone! Fer Turing, da la scher di nos pensé. 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 Grazie a tutti.